Benvenuto a Roma Si tratta di un evento formale oppure una cena tra amici? Tra vecchi amici Quanti bottoni? Due Stile richiesto? Tattico Mister Wick Si goda la festa E' un piacere rivederla così presto Ho bisogno di te per questa missione Non sono più quella persona Tu sei sempre quella persona, John Non ti posso aiutare John Wick Non avevi detto che andavi in pensione? Beh, ho mentito Tu non hai la minima idea di cosa ti aspetta Per favore, qualcuno procuri a quest'uomo Un'arma Non puoi farcela da solo Io li ammazzo tutti Non ho dubbi Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti.